Buongiorno da Edo e niente, quindi ieri Apple ha presentato i nuovi SoC e che vuoi non dedichiamo il buongiornissimo a questa notizia? Non si può, non si può. Questi nuovi SoC o System on Chip chiamati M.2 Pro e M.2 Max saranno presenti nei nuovi MacBook Pro e anche nei Mac Mini dove per la prima volta vedremo anche un modello Pro. M.2 Pro offre fino a 12 core per il processore e 19 core per la GPU e fino a 32 GB di memoria unificata. Mentre il Chip M.2 Max offre ancora di più con fino a 38 core per la GPU e fino a 96 GB di memoria unificata e saranno disponibili dalla prossima settimana. I prodotti annunciati da Apple che equipaggeranno i nuovi SoC sono naturalmente i MacBook Pro presentati in versione da 14 e da 16 pollici e naturalmente il marketing non ha rinunciato al consueto e arbitrario moltiplicatore delle prestazioni rispetto al MacBook Pro che montava CPU e Intel. Vediamo a questo giro quante volte saranno più veloci i processori. Drumroll please. 6 volte signori, 6 volte più veloci dei MacBook Pro e Intel, meraviglioso. Poche cose abbiamo? Abbiamo la batteria più duratura di sempre, uscita video 8K, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, mentre rimangono uguali lo schermo mini LED, le porte, il MagSafe e la tastiera. Vediamo i prezzi. Il nuovo Pro da 14 pollici con CPU da 10 core parte da 2.499 euro, quello 12 core da 3.099 euro e quello con 30 core da 3.799 euro. Per quello da 16 core invece partiamo da 3.099 euro e volendo c'è anche la variante con 96 GB di RAM a poco più di 5.000 euro. No, no, aspetta, ci vuole qualcosa di più indicato. Troppo? Vabbè, ormai l'abbiamo messo. Comunque Apple ha annunciato anche un aggiornamento per il Mac Mini che sarà disponibile con il chip M.2 al prezzo di 729 euro e inoltre con M.2 Pro a partire da 1.579 euro, ma volendo c'è la versione con CPU da 12 core a 1.924 euro e poi naturalmente le varie configurazioni che si possono personalizzare. Tra l'altro M.2 Pro ha 4 porte Thunderbolt e supporta fino a 3 monitor, compreso i monitor 8K. Aggiungo infine che esiste una distribuzione Linux perfettamente in grado di girare sia su M.1 che su M.2, si chiama Asahi Linux e quindi non ci dovrebbe voler molto per farla funzionare anche su M.2 Pro e M.2 Max. Naturalmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima che tutte le funzionalità vengano integrate e non c'è ancora il supporto per cose come il Neural Engine. Bene, era tutto per la puntata dedicata ai nuovi Mac M.2, grazie per aver seguito fin qui e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao!